ciao a tutti muti una fast tech 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 split second da parte dei vostri images of lotus come al solito oggi vi portiamo un mazzo di modern molto carino che una volta ero in tier 1 recalato un po allora dredge la meccanica più sbagliata di magic su una scala da 0 a 10 marola considerata comunque un 9 10 come storm infatti da 0 storm si dice tendenzialmente storm cioè al posto di al posto di 10 la meccanica talmente rotta che se mai la rimettessero come hanno fatto con storm va messa su carte solo di un certo tipo con un certo tipo di power level e magari anche cambiando colore addirittura in maniera da renderla ancora più debole allora sostanzialmente nostro obiettivo è utilizzare carte con dredge che è un'abilità della prima ravnica appunto come lo stinkwind imp e il golgari tag che sono quelle che dragano più carte rimaste attive però che non abbiano effetti particolarmente forti in questo caso ci interessa solo che draghi tanto ci sono anche carte che dragano poco ma sono molto forti come life from the home che lì invece l'obiettivo è fare recursion ma un altro discorso allora dredge funziona in questo modo se stinkwind imp o comunque una carta con dredge si trova nel nostro cimitero quando dobbiamo pescare è un'azione di stato con cioè è un effetto di sostituzione quindi non si può rispondere come se fosse una trigger anziché pescare noi mettiamo le prime cinque carte nostro grimorio nel cimitero e riprendiamo in mano la carta appunto con dragare noi possiamo cambiare ogni stanza di pescare di una determinata carta o fase per ogni una per ogni carta con dragare quindi se noi dobbiamo pescare per esempio due carte con per esempio appunto la catartica riunico cioè fa pescare addirittura tre noi possiamo cambiare tutte e tre le pescate o anche solo una o due quello che vogliamo con dragare basta che abbiamo almeno una appunto la carta sempre col cimitero con l'effetto allora il nostro obiettivo è buttare quindi il cimitero prima possibile le carte con dragare dopodiché iniziamo a macinare il mazzo macinando il mazzo troveremo tante creature che rientrano a gratis del cimitero narcomeba è la prima se viene macinata la mette in gioco direttamente l'amalgama entra a fine turno se una creatura è entrata al cimitero quindi se narcomeba è entrata e l'amalgama l'ha vista l'amalgama lo segue bloodgast se noi l'andiamo entra quindi anche lì tac basta lo maciniamo facciamo terra entra il silver silver smoke goal stessa cosa ma se abbia guadagnato tre punti vita però è facile perché ci ha dato una carta che ci permette di guadagnare tre punti vita se la maciniamo e non la tiriamo non paghiamo mana creeping chill perché dice tappa 4 fai tre danni a un avversario guadagni tre punti vita ma se noi invece l'abbiamo macinata possiamo esiliarla con una trigger e fare lo stesso effetto in pratica e quindi pretende come giocarla tra virgolette gratis senza castarla perché è un'abilità e quindi l'altro potrà anche tirare counter fortissimo infatti questo mazzo ha un match up buonissimo contro quelli che si imbollano con i counter perché non riescono a counterare nulla di serio altra carta vorrei sottolineare è conflagrate che è fortissima come finale allora noi cerchiamo di castarla a zero perché è difficile cercheremo mana per pagare xx rosso poi dopo che facciamo doppio rosso scartiamo x carte conflagrate fa x danni divisi come vogliamo tra questi numero di target quindi carichiamo tantissimo le carte in mano grazie a carte come life from the home che qua in questo caso non si gioca ma una volta si giocava comunque carichiamo tante carte in mano prendo tutti i draganti in mano comunque in qualche modo si fa e ti spariamo tantissimi danni in testa o ti pulliamo il board altra carta fortissima rally the peasants che migliora tanto la race perché mettiamo tante creature piccole gratis una botta sola mettiamo anche 34 dopo di che tutte prendono più di più zero punti ammazzo il mazzo molto forte allora ha un ottimo g1 contro gran parte di tier ha dei g2 g3 un po meno ottimi per bisogna saper girare o in maniera ottimale contro late un altro motivo per questo mazzo è peggiorato tanto è che hanno stampato endurance endurance davvero the bane of this deck proprio lo stronca non ci possiamo giocare attorno facilmente perché si gioca a carte coperta la yugioh l'altro paga un zero scartando una carta esiliando una carta verde buttando giù l'endurance a flash e noi che facciamo niente ammucchiamo quindi ha peggiorato vero tanto il match up però contro i mazzi col verde soprattutto però rimane comunque un mazzo che può strappare tranquillamente tante vittorie detto questo spero questa deck rapida vi sia piaciuta spero che questo mazzo magari vi intrighi e riuscite a fare qualche risultato così da riportarlo in auge ma neanche troppo e ci vediamo al prossimo video